Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di ascolto della parola del Signore in questo lunedì dell'ottava settimana del tempo ordinario. Ormai abbiamo finito il tempo di Pasqua, abbiamo celebrato la solennità della Pentecoste, quindi chiediamo al Signore che ci dia in questo tempo ordinario la grazia per rimanere in Lui. Oggi nella Chiesa celebriamo pure lunedì dopo la Pentecoste la memoria di Maria Madre della Chiesa, una memoria stabilita da Papa Francesco l'11 febbraio dell'anno 2018, per sottolineare questo aspetto materno della Chiesa. Ecco perché oggi il Vangelo è tratto da Giovanni, capitolo 19, versetti dal 25 fino al 34. Nel momento di Gesù e sua madre, la morte di Gesù è il colpo di lancia, così lo intitola la Bibbia di Gerusalemme. Allora chiediamo al Signore che ci dia la grazia di vivere questo mistero di Maria Madre della Chiesa. Poi diremo qualcosa alla luce della parola. Chiediamo lo Spirito Santo per ascoltare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, o sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Possero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver presso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo Spirito. Era il giorno della Parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate le loro gambe e fossero portati via. Vennero dunque ai soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non li spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore. Lode a te o Cristo. Bene, fratelli, questa memoria di Maria Madre della Chiesa, il Vangelo penso che è proprio per introdurci nel tempo ordinario. Come possiamo vivere questo tempo? Questo tempo ordinario vuol dire quel tempo dell'ordine, il tempo della speranza. Ecco perché durante questo tempo i paramenti sono di colore verdi. Perché? Perché è il colore della speranza, dell'attessa di questo Maranatà, di questo Vieni Gesù, di questa attessa della seconda venuta. È il desiderio di incontrare Lui, il desiderio di venire incontro a Lui. E questo è quello che fa la Chiesa durante questo tempo ordinario. E per capire questo mistero il Signore ci aiuta. Il primo lunedì dopo la Pentecoste si celebra questa memoria. Maria Madre della Chiesa. Bene, il Vangelo vediamo, ci mette subito di fronte a una realtà, la realtà della croce. Non esiste il cristianessimo senza croce. Allora la prima cosa è questo. E poi questo dialogo di Cristo sia con sua madre, sia con il discepolo che lui amava, sappiamo, è Giovanni. Allora lui dice, chiama sua madre, donna. Sappiamo bene, lo abbiamo sentito un tempo fa, che quando nella scrittura appare questo termine, donna, è perché Giovanni, l'Evangelista, vuole sottolineare l'aspetto sponsale della Chiesa con Cristo. Quindi Maria rappresenta la Chiesa come madre di Gesù e madre nostra, come rappresenta la sposa di Cristo unita al suo sposo sulla croce. E allora, donna, ecco tuo figlio. Gesù ci dona più che una madre semplicemente nell'aspetto sentimentale, no? Ci dona sua madre, quella donna che rappresenta il rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa. Donna, ecco tuo figlio. Lo dice per ognuno di noi il Signore. E poi lui parla a noi, al discepolo, ecco tua madre. Quello che si dirà dalla Chiesa, si dirà di Maria, così dicono i padri. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco perché è importantissima questa memoria, perché se Maria è madre della Chiesa, è madre nostra e noi siamo chiamati come battezzati a formare parte di questa Chiesa che accoglie Maria per mandato di Gesù e accoglie la fede, accoglie tutto il mistero della vita di Maria, dal FIA, dal SI fino a questo momento, al momento della croce. E poi pure sarà presente nella Pentecoste, riceve questa effusione dello Spirito Santo. E così ognuno di noi, così tutta la Chiesa. Bene, poi vediamo che di fronte a questa espressione di Gesù, no? Oh sete, c'era Maria. E c'era Maria, senz'altro che si compie la profezia del Salmo 69, versetto 22, che parla proprio, lo leggo proprio per capire di che cosa stiamo parlando. Dice il Salmo 69, versetto 22. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Così si compie la parola. Il Signore ha sete. Oh sete, ci dice a ognuno di noi. Ha sete Dio. E allora come possiamo fare noi? Come possiamo rispondere a questa chiamata nella vita del cristiano? Siamo chiamati pure noi a avere sete. Sete di Dio, fame di Dio, eccetera. E così ogni volta che si proclama la parola è una risposta, non con l'aceto, se no veramente con la nostra vita, che abbiamo sete. Abbiamo sete. Come ci sassia il Signore attraverso la sua parola, attraverso i suoi sacramenti. E allora c'è il momento della morte di Gesù. Sempre sta la madre di Gesù, come deve restare ogni cristiano ai piedi della croce. Così con tutti i doni di cui abbiamo parlato in questi giorni. I doni dello Spirito Santo che ci aiutano. La fortezza, la scienza, la pietà, eccetera. E allora viene il momento in cui viene questa interpretazione spirituale, mistica, della nascita della Chiesa dal fianco di Cristo. Sappiamo bene che è paragonabile, no? È un'analogia pure quella di Adamo ed Eva. Così Eva nasce dal costato di Adamo, così la Chiesa nasce dal costato di Cristo, dal fianco di Cristo e subito ne uscì sangue e acqua. La nascita della Chiesa, due sacramenti che sono importantissimi, il sangue che è l'Eucaristia, l'acqua che rappresenta il Battesimo, dove siamo costituiti, tutti noi siamo stati costituiti figli di Dio e membri della Chiesa. Cioè parte di questa Chiesa che è madre e si è madre, allora Maria ci rappresenta. Maria, madre della Chiesa, prega per noi. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, vi invito a chiedere delle preghiere, a lasciarle le vostre preghiere qui sotto per intercessione oggi di Maria, madre della Chiesa. Lasciate tutto qui sotto nella zona dei commenti e potete lasciarci anche un mi piace, iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Condivide anche il link di questo video con più persone così ci aiuta a evangelizzare. Una bellissima giornata e vi auguro un bellissimo tempo ordinario.